Non riuscite a farle con una foto sola? Non riuscite a farle con una foto sola? Non riuscite a farle con una foto sola? No! Non so che una volta abbiamo appena conosciuto Rostrella. Partiamo per passeggiare, volevo andare a vedere cosa c'era la in cima. Cammina, cammina, a un certo punto di giro la vedremo. Ma c'è accasciata? Ma c'è Rossi dai, ma perché sai? Ma che sai? Ecco, ti vediamo! Mi chiamo Rostella, sono a smaggia! Ma ci aspetta? Porco Dio, ma non mi dicevi! Nooo! Non mi osavo, non sai com'è! Non mi osavo, grazie!